Grave incidente nella serata il sabato 30 luglio poco dopo le 18.30 in via Roma a Cornier, una Renault Clio fuori controllo con a bordo due persone, un uomo e una donna si è schiantata contro un muro. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Castellamonte, la croce bianca del Canavese, nel risoccorso 218 i vigili del fuoco di Rivarol Canavese, i carabinieri di Cornier e la polizia locale. Entrambi i feriti sono stati trasportati in grave condizione all'ospedale CTO di Torino. Si tratta di una coppia di Milano che era in visita da alcuni parenti, lei 76 anni e lui 74. La donna ha riportato oltre i traumi un taglio all'addome causato dalla cintura. L'uomo è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente. Poi al CTO Mi sa che non lo scalpano. Una Clio Mi sa che non lo scalpano.